salve a tutti carissimi scacchisti bentornati in dynamic s nuova puntata per la rubrica campioni all'opera e ci prendiamo una piccola pausa da paul morphy perché voglio invece presentarvi uno dei suoi avversari più tenaci adolf anderson uno scacchista tedesco denominato il massimo esponente della scuola romantica il genio della combinazione non è stato un caso che ho scelto questa rubrica ma bensì perché ha vinto in un sondaggio che ho fatto sul mio nuovo gruppo telegram se volete partecipare anche voi ai miei prossimi sondaggi vi invito ad unirvi al gruppo vi lascio semplicemente il link in descrizione e come sempre ragazzi non dimenticatevi di dare un supporto al canale cliccando sul pulsantino qui sotto iscriviti e di seguirmi magari anche sulla pagina facebook instagram e twitch dove presto inizieremo con le dirette promesso inoltre vi ricordo che potete dare un supporto al canale tramite il link paypal che vi lascio in descrizione dove in cambio riceverete il pgn di una delle mie aperture a vostro piacimento con tanto ragazzi di commenti e varianti ben dettagliate detto ciò ritorniamo a parlare di scacchi carl ernst adolf anderson così era il suo nome completo nasce il 6 luglio del 1818 a breslavia quando questa faceva ancora parte della prussia imparò a giocare a scacchi a soli 9 anni ma a differenza di morphy non fu un bambino prodigio infatti fu solamente a 24 anni che attirò l'attenzione sui disegni nel mondo degli scacchi quando pubblicò un piccolo libricino con alcuni esercizi nel 1846 poi divenne anche editore di una rivista scacchistica anderson studiò matematica e filosofia e si laureò nel 1847 diventando professore di matematica al liceo visse tutta la sua vita a breslavia insieme alla sorella e alla madre vedova e fu solamente nel 1848 che fece notare il suo grande gioco quando pareggio un incontro contro daniel harwitz un giocatore professionista e alla base di questo incontro venne invitato a partecipare al primo torneo internazionale che si disputava a londra nel 1851 a rappresentare la germania questo torneo fu organizzato da howard staunton uno scacchista inglese che era reputato all'epoca il giocatore più forte in assoluto in un primo momento anderson rifiutò l'invito in quanto non aveva la disponibilità economica per partecipare a questo torneo ma staunton si propose di pagargli tutte le spese questo torneo fu veramente molto importante perché attirò l'attenzione dei più grandi giocatori in quanto c'erano ben 500 sterline in palio in questo video voglio farvi vedere due delle partite più belle giocate da anderson la prima fa parte proprio di questo torneo dove anderson non solo riuscì a battere staunton in semifinale ma bensì arrivò primo quindi veramente riuscì a vincere contro tutti la partita che voglio farvi vedere il primo turno che è stato giocato contro lionel chieserizky non sono sicuro grazie delle pronunce denominata l'immortale questa partita perché veramente uno spettacolo mentre la seconda partita che vorrò farvi vedere è stata giocanda successivamente nel 1852 a berlino contro john du fresne anche qui le pronunce non sono sicuro denominata la sempre verde l'evergreen partiamo ragazzi con la prima partita dove anderson era i bianchi apre con e4 l'avversario risponde con e5 f4 da parte di anderson gambetto direi diciamo il massimo gambetto dell'esponente romantico no cattura in f4 gambetto accettato alfiere in c4 la variante principale ovviamente a cavallo f3 alf3 c4 un'alternativa molto interessante che viene nominata il gambetto di alfiere in questo tipo di variante il bianco non solo segreti con pedone ma dopo donna h4 scacco è costretto anche a giocare f1 quindi perdendo l'arrocco perché ovviamente g3 non era possibile perché dopo g per f3 f per g3 non si può giocare cavallo f3 in quanto con g2 il nero andrà a catturare la torre recuperando la donna che al momento magari potrebbe essere attuato dal cavallo e quindi andare in netto vantaggio per questo motivo il re f1 è forzata e adesso il bianco conta sul fatto che il nero ha esposto la sua donna un po' troppo precocemente e quindi potrà guadagnare qualche tempo sviluppando i propri pezzi la parente principale qui consiste semplicemente nel sviluppare il cavallo con il cavallo f6 o anche la spinta d6 dove la partita assume una impronta molto tattica e dove entrambi i giocatori hanno delle chance di vittoria il computer da leggero vantaggio al nero perché magari pensa di potersi difendere in maniera perfetta e quindi approfittare del fatto che ha un pedone in più ma su scacchiera sicuramente è una posizione è una partita molto tagliente dove anche il bianco ha le sue chance in quel periodo però andava molto di moda sacrificare pedoni per sviluppare i propri pezzi in maniera super veloce e quindi il nero gioca b5 una fossa che kasparov nel suo libro i grandi predecessori definisce sbagliata sbagliata perché nonostante la idea potrebbe essere interessante ovvero quella di deviare l'alfiere dal controllo di questa dioconale portandolo sulla calcia b5 per poi magari guadagnare qualche tempo con la spinta c6 e d5 in questo caso non funziona perché comunque il nero non ottiene compenso questa idea è molto simile a quella del gambetto evans che andremo a vedere magari successivamente alfiere per b5 cavallo in f6 cavallo in f3 donna h6 e donna h5 attaccando l'alfiere il bianco può tranquillamente sviluppare il pezzo con cavallo c3 dopo donna h6 il bianco continua con la timida d3 kasparov dice che lui una volta fu costretto a giocare questa variante da nero contro short dove il bianco continua con cavallo c3 e qui curioso come il computer dice che dopo alfiere b4 la partita è assolutamente pari mentre kasparov continuò con la dubbia g5 dopo d4 il bianco contenne un estremo vantaggio e riuscì facilmente a vincere in partita invece anderson continua con d3 attaccando o meglio attaccando a raggi x la donna in h6 qui il nero continua con cavallo h5 minacciando cavallo in g3 e probabilmente più accurata sarebbe stata alfiere c5 dopo la spinta d4 il bianco vedete ha perso un tempo si poteva giocare tranquillamente alfiere b6 e dopo cavallo c3 si può giocare anche alfiere b7 con questi due forti alfieri che puntano sui pedoni centrali e magari con il fatto che il re è ancora esposto qui al centro il nero avrebbe ottenuto un buon gioco non viene giocata alfiere c5 ma viene giocata cavallo h5 con l'idea di minacciare cavallo g3 scacco essendo il pedone h inchiodato dalla donna e il bianco andrebbe poi a perdere la torre corretta qui sarebbe stata l'interessante torre g1 minacciando la spinta in g4 e su donna b6 si può giocare tranquillamente cavallo in c3 se c6 alfiere c4 e il bianco sta assolutamente bene invece anche anderson pecca di imprecisione e gioca cavallo h4 qui il nero continua con donna g5 minacciando il cavallo cavallo in f5 e qui probabilmente il nero avrebbe potuto continuare con g6 con g6 anche se donna h4 il nero poteva giocare donna f6 adesso curiosa come viene consigliata cavallo c3 tanto comunque questo pedone non può prendere qui in f5 in quanto la donna andrebbe poi a catturare qui in h5 e il bianco poteva si minacciare cavallo d5 ma il nero con la semplice al do alfiere b7 andava a stare nuovamente assolutamente bene viene giocata invece dal nero la spinta c6 e qui ancora anderson prepara le sue prime trappole che però magari a gioco corretto non funzionano così tanto la semplice alfiere a4 avrebbe mantenuto un vantaggio in quanto comunque adesso la spinta d5 è fattibile però comunque questo alfiere andrebbe poi a inchiodare questo pedone visto che c'è il re avversario dietro invece anderson gioco g4 e g4 non è proprio precisa adesso g6 sarebbe stata molto forte dopo la spinta h4 donna in f6 anche se g per h5 il nero poteva catturare qui in b5 adesso c'è questo cavallo sotto attacco e avrebbe ottenuto un ottimo vantaggio mentre viene giocata cavallo in f6 e qui torri in g1 qui il nero commette l'errore diciamo fatale la mossa corretta sarebbe stata quella di spingere il pedone h5 facendo pressione sul punto g4 e dopo h4 donna in g6 alfiere in a4 presa in g4 il nero sarebbe stato assolutamente in una buona posizione viene invece giocata la presa in b5 andando a catturare un alfiere quindi cercando di guadagnare materiale ma adesso dopo h4 e donna in g6 il bianco con h5 donna g5 donna f3 inizia ad andare in vantaggio in quanto la minaccia alfiere per f4 è molto forte nero decide di giocare cavallo b8 per dare una via di fuga alla propria donna alfiere per f4 donna in f4 minacciando il f6 scusate minacciato il pedone b2 cavallo in c3 alfiere in c5 alfiere c5 è una mossa che perde all'istante più precisa dice il computer sarebbe stata donna c6 ma comunque dopo la spinta a4 il nero il bianco avrebbe ottenuto sarebbe rimasto comunque netto vantaggio alfiere c5 minaccia la torre ma qui il bianco con la semplice spinta in d4 avrebbe ottenuto un vantaggio stratosferico adesso comunque il nero è costretto a perdere dei tempi a riportare indietro alfiere e il bianco avrebbe avuto un ottimo guadagno del centro pronto a portare le torre in gioco andersen gioco cavallo d5 e dopo donna per b2 abbiamo il momento cruciale della partita qui la semplice torre in e1 avrebbero messo k o il nero prendere la torre qui in g1 sarebbe una mossa perdente al 100 per cento in quanto dopo cavallo d6 non si può giocare a re in d8 perché dopo la spinta in e5 il bianco adesso minacciava f7 quindi cavallo h6 alfiere g5 scacco f6 presa in f6 ed è matto non si può giocare re in f8 perché dopo alfiere n5 si attacca la donna con l'alfiere e si minaccia matto in f7 quindi comunque il bianco andrebbe a vincere tranquillamente andersen però era un tipo molto particolare gli piaceva molto complicare le cose e a volte commetteva delle mosse sbagliate per creare quella che era una combinazione straordinaria e qui gioco alfiere d6 curioso come il computer dopo alfiere d6 da netto vantaggio al nero addirittura parte da meno 7 per poi arrivare pian piano dopo analisi dopo analisi a trovare forse una combinazione di pareggio il punto è che qui dopo donna per a1 re in e2 il nero ovviamente non può catturare la torre né con la donna né con l'alfiere perché la donna è legata alla difesa del punto g7 dove si andrebbe a creare una rete di matto ad esempio donna per cavallo per g7 e qui alfiere g7 matto e se alfiere per tranquillamente con la spinta in e5 non c'è più modo di poter difendere il punto in g7 quindi la rete di matto si ripromone ma con la semplice donna b2 il nero avrebbe mantenuto la difesa del pedone g7 e attaccato il pedone in c2 ora qui sono state fatte una marea di analisi ragazzi è stata analizzata alfiere c5 il computer all'inizio consigliava torre c1 tutte varianti che comunque alla fine portano netto vantaggio al nero ma dopo re d2 pare che il nero non abbia nulla di più che accontentarsi della patta qui la variante migliore consiste nel gioco alfiere g1 dopo spinta in e5 minacciando nuovamente matto in due quindi forzata alfiere in a6 per dare una via di fuga al re in c8 in caso di cavallo per g7 alfiere c7 cavallo c7 scacco re d8 dona per a8 minacciando il cavallo che è imparabile da difendere alfiere b6 attaccando il cavallo donna per b8 scacco alfiere c8 forzata cavallo d5 alfiere n5 scacco re n3 donna per c2 e come possiamo vedere il bianco non ha modo di poter dare scacco al re e quindi una volta che cattura anche il pedone in a7 il nero con donna d2 avrà il perpetuo non riesce a dare matto a gioco corretto qui c'è semplicemente un perpetuo e quindi la posizione si può definire pari ma nulla di tutto ciò perché in questa posizione il nero casca nella trappola e gioco alfiere per g1 il punto è che adesso dopo la spettacolare e5 il nero dopo donna per a1 scacco e re in e2 non ha più scacchi e non ha modo di poter difendere il punto in g7 con lo stesso tema che abbiamo visto prima siamo rientrati praticamente nella variante di prima qui corretta era giocare alfiere n6 per dare sempre la via di fuga al re e dopo cavallo c7 re in d8 cavallo per a6 minacciando adesso la donna poi il cavallo il nero non avrebbe avuto difesa qui addirittura la variante migliore consigliata dal computer consiste nel giocare donna c3 e dopo alfiere c7 scacco spostare il re consisterebbe nello scacco matto qui c'è mattino una qui in d6 re d7 re f8 donna per f7 scacco matto quindi il nero sarebbe costretto a cedere alla regina e dopo cavallo per c7 anche se il re per c7 cade anche la torre in a8 e il bianco vince facilmente in partita invece il nero gioco cavallo a6 con l'idea dopo cavallo per g7 re in d8 di proteggere la casa in c7 ma dopo cavallo per g7 e re in e8 il nero si trova con questo cavallo sovraccarico alla difesa della casa in e7 in quanto adesso alfiere n7 sarebbe scacco matto e quindi il bianco gioco tranquillamente donna f6 scacco deviando il cavallo dalla difesa del punto e7 e dopo alfiere n7 si è scacco matto uno spettacolo di partita ragazzi andiamo a vedere adesso l'altra partita denominata l'evergreen dove anderson nuovamente era i bianchi gioca e 4 e 5 questa volta non si va per il gambetto di re ma si va con cavallo in f3 cavallo c6 ma dopo alfiere c4 alfiere in c5 il sangue del gambetto che c'è lui non lo tradisce e viene giocato b4 il gambetto evans un gambetto che ancora tutt'oggi a mio avviso è di tutto rispetto rifiutare il gambetto dice kasparov che non è assolutamente conveniente perché già dopo a4 il bianco si può definire in vantaggio in quanto guadagna spazio sul lato di donna la parente principale migliore consiste nel semplicemente di accettarlo spinta in c3 alfiere in a5 alfiere n7 è comunque un'alternativa ma alfiere a5 è la parente principale mantenendo comunque pressione sul re bianco spinta d4 presa in d4 e qui ovviamente prendere con il proprio cavallo dopo cavallo per donna per il bianco rimanebbe con questo pedone isolato e non avrebbe alcun senso invece il bianco semplicemente arrocca pensando allo sviluppo qui accettare il pedone il computer dice che è pari ma su scacchiera devo essere sincero penso che il bianco dopo donna b3 donna f6 spinta nei 5 donna g6 mantenendo sempre il controllo di f7 cavallo per c3 cavallo g7 alfiere n3 la posizione seppur definita pari dal computer penso sia veramente buona per il bianco il bianco ha completato il suo sviluppo a questo alfiere che controlla questa magnifica diagonale questa forte batteria sul punto f7 le torri che comunicano questa posizione mi ricorda molto anche il gambetto goring in una delle tante varianti che ho analizzato nei miei video che se vi siete persi vi lascio il link in suggerimento c'è questa disposizione di pezzi l'alfiere n3 la donna in b3 l'alfiere in c4 e il cavallo in c3 veramente mi ricorda molto questo tipo di gambetto un'alternativa più valida anziché la presa in c3 è sicuramente quella di sviluppare il cavallo è buona sia cavallo f6 tanto sulla spinta in f6 si può giocare la spinta in d5 migliore pare essere cavallo g in e7 e dopo cavallo g5 impedendo l'arrocco ovviamente arroccare ragazzi dopo donna h5 questo tipo di trucchetto lo dovete sempre tenere in mente in quanto c'è poi un triplice attacco sul punto in f7 e un doppio attacco sul punto h7 quindi il nero andrebbe a perdere ma semplicemente qui con la spinta in d5 il nero si libera un po della pressione va a stare nuovamente bene e prendere l'alfiere non conviene in quanto questo è il nostro alfiere buono non vorremmo sicuramente cambiarlo con questo cavallo dopo la presa di pedone il nero può giocare tranquillamente cavallo e5 attaccando l'alfiere adesso perdere un tempo con cavallo alfiere b3 pare che dia vantaggio al nero il computer consiglia donna per d4 ma poi appunto andiamo a perdere questo alfiere e il nero si può dire che sta assolutamente bene nulla di tutto ciò perché in partita non si ebbe cavallo in g ne7 ma bensì la spinta di 3 un modo curioso di restituire il pedone indietro perché il nero sperava nella cattura o di alfiere o di donna per evitare la batteria donna b3 alfiere in c4 sul punto f7 ovviamente il bianco se ne frega di quel pedone e gioca donna b3 creando appunto quella batteria si minaccia f7 difendibile solo con donna f6 spinta n5 ovviamente ragazzi catturare n5 non è possibile sempre perché la donna è legata al punto f7 quindi donna g6 torre in e1 mossa astuta che impedisce la spinta del pedone d5 in quanto succederebbe la presa in passanto con scacco cavallo g ne7 chiudendo questa colonna alfiere in a3 adesso qui il nero avrebbe si potuto arroccare però poi si sarebbe auto inchiodato questo cavallo interessante era restituire un pedone per cercare di alleggerire la pressione con la spinta in d5 adesso ovviamente a prendere questo pedone con l'alfiere dopo cavallo per abbiamo detto che il nero riesce a cambiare il suo cavallo per il nostro fortalfiere e andrebbe a stare bene la presa del pedone d6 dopo c per d6 pare comunque dare ottime chance al nero adesso basta arroccare questa diagonale è chiusa quindi non c'è più lato inchiodatura e la parte della posizione assolutamente equilibrata computer da leggero vantaggio al nero la vostra giocata invece qui dal nero ha un'idea simile ma a mio avviso è molto meno imprecisa viene giocata nuovamente la spinta b5 abbiamo capito che in quel periodo il pedone laterale b non valeva assolutamente nulla il nero ovviamente sacrifica un pedone per cercare di alleggerire la posizione e creare una forte batteria con l'alfiere in b7 l'alfiere qui in b6 e la donna qui in g6 che puntano sul re l'idea non è sbagliata però comunque non è che abbia così tanto poi successo questo tipo di piano al fine per b5 torre in b8 minacciando la semplice a6 visto che adesso l'alfiere inchiodato donna a4 alfiere b6 cavallo in d2 alfiere b7 nero riesce nel suo scopo e devo dire che a occhio non mi dispiace la posizione del nero l'alfiere punta contro il potere g2 che è attaccato anche dalla donna l'alfiere che attacca raggi x il re bianco una posizione che sembra interessante però dall'altra parte c'era anderson che era sicuramente il genio della combinazione e non è che si spaventava di queste cose cavallo in e4 cavallo e4 taglia la donna dalla difesa del pedone d3 e quindi adesso dopo alfiere per d3 ci sarebbe un attacco a raggi x sulla donna infatti qui a roccare sarebbe assolutamente un errore perché dopo alfiere per d3 anche se la donna si sposta si può giocare cavallo g5 con doppia minaccia su h7 la donna pronta a entrare con h4 e veramente ci sarebbe un fortissimo attacco corretta probabilmente era la spinta d2 costringendo questo cavallo a tornare indietro alla cattura del pedone d2 e adesso si poteva tranquillamente roccare il bianco sarebbe rimasto comunque in netto vantaggio ma la posizione sarebbe stata sicuramente più equilibrata il nero qui invece giocò donna f5 una mossa che non ho assolutamente capito innanzitutto da g6 f5 la donna non migliora la sua posizione e poi dopo alfiere per d3 rimane comunque sotto attacco a raggi x del nostro alfiere e infatti qui il nero adesso giocò donna h5 perdendo semplicemente un tempo in quanto la donna avrebbe potuto raggiungere la casa h5 con una sola mossa la nostra scelta qui da anderson non fu una delle più precise seppur a mio avviso è una delle più belle corretta dice anderson è cavallo g3 e dopo donna h6 alfiere c1 donna in e6 si poteva giocare alfiere c4 do cavallo d5 la donna non è che aveva tante altre case e qui cavallo g5 la donna non può andare nei 7 perché è legata alla difesa del cavallo qui in c4 ma dopo cavallo per c3 che contrattacca la nostra donna e donna a b3 la donna una volta che si sposta cade il punto f7 nel bianco andava in netto vantaggio anderson in questa posizione decise invece di giocare la interessante cavallo f6 cavallo f6 è una mossa tanto bella quanto sbagliata è una di quelle mosse che come abbiamo spiegato già nella partita precedenza precedente crea tanto spettacolo ma che a gioco corretto purtroppo non funziona ora non è un vero sacrificio in quanto dopo la forzata g per f6 perché ovviamente il cavallo attaccava doppio re e donna ed e per f6 il cavallo e del cani sulla colonna e rimane inchiodato dalla torre quindi comunque il bianco lo recupererà quando vuole il problema però di questa mossa è che si è aperta la colonna g e quindi questa torre che prima stava dormendo lì in h8 senza poter far nulla adesso con la semplice torre g8 giocata in partita si è attivata e quindi anderson con questa mossa ha portato in gioco un pezzo nero qui dopo alfiere in e4 il bianco avrebbe comunque potuto mantenere un vantaggio ad esempio su donna h3 spinta in g3 il nero avrebbe potuto tentare torre per g3 ma dopo h per g3 donna per g3 scacco approfittando dell'inchiudatura di questo pedone re in h1 alfiere per f2 il nero il bianco qui ha una mossa che gli garantisce la vittoria curioso come l'hasker in una delle sue note disse che dopo torre in e2 il bianco stava bene e vinceva in realtà qui ragazzi il nero ha una mossa straordinaria che gli regala la vittoria vi invito un po a mettere in pausa il video perché non è riuscito a trovarla neanche l'hasker qui dopo cavallo in d4 il bianco deve solo che abbandonare il cavallo da qui minaccia il cavallo in f3 minaccia la torre l'alfiere minaccia l'alfiere n4 e il bianco non può far nulla se decidesse di catturare il cavallo con il proprio cavallo mattino una donna h3 scacco matto se decidesse di catturare l'alfiere in b7 cavallo per e scusate più precisa si cavallo per ma anche semplicemente donna h3 cavallo h2 cavallo per con minaccia di matto in g3 imparabile qualora decidesse di catturare con il pedone si poteva avere tranquillamente alfiere per e4 ovviamente la torre non può catturare ne4 perché dopo donna per f3 comunque c'è matto a seguire e dopo donna per f2 semplicemente donna per f2 questo cavallo rimane inchiodato attaccato due volte e quindi non si può difendere ma come detto qui il bianco aveva una risorsa che consisteva nel alfiere per e7 adesso dopo donna h3 cavallo h2 alfiere per e1 torre per e1 il bianco è in vantaggio adesso se donna h4 si può giocare tranquillamente donna d1 difendendo la torre e il nero non può mai catturare questo cavallo perché dopo alfiere per b7 comunque la torre mantiene l'inquadatura sul cavallo e quindi il bianco andrebbe a guadagnare del materiale il nero a questo rego si è esposto una volta che si sposta questo cavallo ci potrebbe essere qualche tipo di scoperta che è fatale ma nuovamente ritornando in questa posizione anderson anziché giocare la corretta alfiere nel 4 prepara un'altra delle sue e gioco la denominata silenziosa torre a in 21 preparando un trappolone di quelle proprio ragazzi che se il nero a bocca c'è la bellissima combinazione e ovviamente ragazzi il nero ha abboccato ora qui condannare la scelta del nero a mio avviso si è un po troppo severi alzi la mano chi di voi catturerebbe il cavallo qui in f3 eccomi qua catturare questo cavallo qui in f3 è una mossa così naturale donna per f3 si minaccia matto in una si minaccia donna per f2 quindi non si può giocare g3 perché dopo donna per re h1 donna f3 e mappo e si minaccia molendo anche una scoperta con cavallo d4 attivando questo alfiere quindi veramente non capisco come possa essere questa mossa sbagliata ovviamente con tanto di analisi potrebbe si potrebbe arrivare ad analizzare una sequenza di mosse forzante che vantaggio al bianco ma corretta sarebbe stata a giocare torre in g4 computer consiglia donna h3 torre g4 viene consigliata nel libro di kasparov dove viene ritenuta leggermente inferiore però comunque da a mio avviso pari chance dopo alfiere c4 donna f5 torre per d7 mossa veramente molto molto bella che costringe il nero a catturare direi non si può catturare di donna perché dopo torre per e7 forzata cavallo per altrimenti si perde la donna può seguire alfiere per f7 e adesso il punto è che non si può giocare re d8 per mantenere la difesa della donna perché dopo re d8 segue una sequenza di matto forzato della donna per d7 cavallo per d7 cavallo in e5 scacco re in e6 in c8 alfiere in e5 presa qui f per e7 presa qui alfiere in d7 matto quindi il re sarebbe costretto a prendere l'alfiere e dopo cavallo e5 cade la donna e il bianco va in netto vantaggio per questo motivo la torre si deve catturare dopo torre per d7 per forza di re e qui dopo cavallo e5 scacco re in c8 cavallo per g4 non si può catturare il cavallo subito perché dopo la presa del cavallo la promozione in e8 è imparabile quindi bisogna giocare cavallo d5 donna d1 attaccando il cavallo cavallo per f6 alfiere d3 attaccando la donna donna per g4 donna per g4 cavallo per g4 alfiere f5 scacco non si può giocare d1 o meglio re in e1 torre in d1 non si può giocare dicevo re in e8 perché dopo alfiere d7 il re deve tornare indietro e si prende l'alfiere con scacco e bisogna per forza quindi giocare cavallo d4 e dopo alfiere per g4 questo cavallo rimane inchiodato i pezzi sono pari però il nero ha quattro pedoni isolati e anzi forse il bianco ha un pedone in più quindi comunque la partita è leggermente favorevole per il bianco ma in questa posizione in partita si ebbe donna per f3 come un po' penso avremmo fatto tutti quanti noi invito a mettere in pausa il video ragazzi e ditemi voi che mossa giochereste con il bianco ma questa qui sarà una delle poche volte che vi chiederò di mettere in pausa per ogni sequenza di mossa qui la mossa corretta è torre per e7 scacco dopo cavallo per e7 paradossalmente questa non è neanche la mossa migliore migliore sarebbe semplicemente giocare re in d8 ma qui dopo torre per d7 nuovamente il bianco non può catturare questa torre perché seguirebbe alfiere f5 con scacco doppio e adesso una volta che il re si sposta alfiere d7 re in d8 alfiere per c6 c'è matto veramente in pochissime mosse e anche qualora decidessi di tornare qui in c8 il nero il bianco può giocare torre d8 in quanto su torre per d8 segue la presa della donna in f3 e se re per d8 nuovamente si può giocare o alfiere 4 scacco anche alfiere f5 portano veramente a tanta roba in partita si è becavolo per e7 e qui nuovamente ragazzi il momento pausa vediamo un po se trovate la mossa vincente del bianco ebbene sì ragazzi nuovamente l'idea è quella di attirare il re sulla casa in d7 donna per d7 scacco re per d7 forzata ovviamente sono donna per e7 sarebbe stato a scacco matto alfiere f5 scacco se il re c6 alfiere d7 è matto in una quindi re in e8 forzata alfiere d7 e ovunque vada il re che vada in f8 o vada in d8 segue alfiere per e7 scacco matto veramente ragazzi una combinazione straordinaria da parte di anderson che dire due partite veramente molto molto belle che caratterizzavano proprio il personaggio anderson un giocatore che a cui gli piaceva tanto sacrificare per creare combinazioni stupende anche a rischio magari di perdere continuiamo a parlare di anderson successivamente in quanto lui nel 1858 sfidò paul morphy per questo motivo voluto un po anticipare di questo straordinario straordinario personaggio perché nel prossimo video vorrei andare a vedere qualche partita giocata contro paul morphy ma non solo possiamo dire anche che anderson nell'861 vinse un match a parigi contro l'austriaco ignaz von collisch per quattro vittorie tre sconfitte due pareggi partecipò al torneo di londra del 1862 vincendo ben 12 partite su 13 questo fu un torneo però non eliminazione diretta come tutti gli altri ma fu il primo torneo con girone all'italiana partecipò a londra nel 1866 un incontro contro stenitz che anche questo sarà sicuramente tema di alcuni miei video futuri e quindi possiamo dire che anderson ebbe una carriera di scacchi veramente molto lunga e molto intensa nel 1870 vinse il torneo di baden baden considerato il più forte giocatore di ragazzi di quel periodo anderson si spense anderson a breslavia il 13 marzo del 1879 fatemi sapere cosa pensate voi di questo giocatore se volete altre partite sicuramente penso di sì e ne andremo a trattare noi ci salutiamo quasi al video vi è piaciuto mi raccomando lasciate sempre il mega like e noi ci diamo appuntamento ragazzi alla prossima grazie a tutti quanti per la visione ciao